Buongiorno a tutti. Buongiorno a voi mattinieri che siete già qui dopo aver finito ieri sera sul Tardi e oggi siete già qua pronti. Buongiorno a tutti. Per me è veramente un piacere, un onore poter stare qui questa mattina al suo fianco, un uomo che ho proprio sperimentato l'amore grande che ha per i giovani. Abbiamo preincontrato due ragazze e proprio un grande professore ed è bello. Il professor Aime insegna antropologia culturale all'Università di Genova, ha condotto diverse ricerche sulle Alpi, in particolare sull'Africa, il Benin, il Burkina Faso, il Mali. Giornalista, fotografo, ha collaborato con diverse testate e ha pubblicato favole per ragazzi. La narrativa per i giovani e per i ragazzi. L'antropologo Aime ci parla della polis, la polis del ventunesimo secolo dove relazioni e rituali che sono stati depositari di una memoria condivisa per tanto tempo, ora stanno avendo un cambiamento, sentono l'influenza di quello che è una comunicazione differente, una comunicazione che passa molto spesso sulla rete, su quelle che sono le comunità virtuali. ed è proprio sulla parola comunità, quella che conosciamo che ci arriva da lontano, quella che adesso è la community di internet, quella che adesso è scandita da dei ritmi, da delle velocità che una comunità umana non sempre riesce a riconoscere. Ecco, su questo ci chiediamo quale, la qualità delle conversazioni. Noi stiamo cercando di parlare di dialogo attraverso le parole e anche attraversando le parole. Ecco, come le community di internet ci aiutano a dialogare. E' l'antropologo che è l'osservatore per eccellenza, colui che guarda, che cerca di comprendere, che accoglie qualche segno. Siamo qui ad ascoltarlo per comprendere che cosa ci dirà. E quindi siamo qua. Buona... Grazie. Bene, grazie. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui numerosi e soprattutto sotto il sole, quindi. E un grazie agli amici del Festival Francescano per avermi invitato, una cosa che mi ha fatto molto piacere. Inizio con un'immagine che io mi sono immaginato proprio. Ecco, un bambino, di un bambino che amava sedersi sulla sponda di un fiume e soprattutto dopo i temporali guardare quel bell'arcobaleno che andava da una sponda all'altra, che si rifletteva nel sole, una sorta di nastro di pioggia e colori, quasi una seta lunga e sottile, che però aveva vita breve. Questo bambino chiudeva gli occhi sperando che questo arcobaleno non svanisse col primo sole, no? E gli piaceva guardarlo specchiato nell'acqua del fiume, che è un fiume che divideva due mondi, due comunità. Siamo nel 1566, questo bambino diventa grande e diventa un architetto e l'allora si chiamava, ve lo dico anche, Mimar Ayuradding e su ordine del sultano solimano ebbe l'incarico di costruire un ponte su quel fiume. Ecco, me lo immagino che lui abbia visto concretizzare, la sua immagine dell'arcobaleno, in un arcobaleno che non sparisse. E questo ponte era stato voluto per unire due comunità che stavano sulle due sponde del fiume, una abitata da cristiani, l'altra da musulmani. Quel ponte lo conoscete tutti, è Mostar. Mostar è una parola che vuol dire ponte. E quel ponte è stato per secoli il simbolo di che cosa vuol dire costruire una comunità. Cioè creare un legame, unire delle persone che a volte si pensano diverse, ma che riescono comunque a comunicare. Perché una qualunque comunità nasce soprattutto da un'idea. Non è vero che bisogna avere un territorio condiviso. Io vengo da un paesino delle Alpi, piccolissimo, quando c'era tanta gente, c'era mille persone, erano divisi in due, metà pastore, metà contadini si detestavano come Tuzzi Hutu tra di loro. Quindi non basta condividere un territorio per creare una comunità. Bisogna pensare, immaginare di essere una comunità. Comunità però è una parola tappola, perché ne abbiamo parlato, abbiamo citato, tutti ci capiamo quando parliamo di comunità. Comunità ci dà anche un po' l'idea di un luogo caldo, un po' intimo, in cui ci si riconosce, un'immagine un po' d'albero degli zoccoli. Però è una parola tappola, perché poi quando andiamo a vedere davvero che cos'è, ci scappa un po' da tutte le parti, un po' come la coperta corta, c'è sempre un pezzo che non rientra, no? E quindi, che cos'è davvero la comunità? Tenendo conto che mai si è parlato così tanto di comunità da quando cominciamo a avere la sensazione di averla persa. Un po' come l'aria, no? Che sentiamo, capiamo l'importanza quando ci viene a mancare. Ecco, anche la comunità ci sembra più importante, proprio perché sentiamo forse di non avercela più. Beh, intanto possiamo cominciare a dire che la comunità è un meccanismo di integrazione, più che un'entità a sé. È un luogo, ma non un luogo fisico necessariamente, in cui tutti impariamo a essere sociali, cioè a stare con gli altri, a non essere individui, ma essere parte di un gruppo. E la comunità è anche un punto di riferimento, è quell'entità oltre la quale non ci riconosciamo più, potremmo dire dove viene costruito il noi, no? Abbiamo forse bisogno di comunità. Cesare Pavese, nel suo romanzo forse più bello, La luna i falò, scrive Un paese ci vuole, non fosse altro che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere mai soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta da aspettarti. Ecco, credo sia una delle forse definizioni più belle, senza volerlo. E, però, questa idea di comunità non sempre viene tracciata, il confine della comunità, su una linea di reale differenza, ma viene costruita sull'idea che noi ci facciamo della diversità dell'altro. Ci pensiamo in un modo e pensiamo che gli altri siano diversi. Guardate, questo è un meccanismo universale. Tutti gli etnonimi, i nomi che le popolazioni si autoattribuiscono, Inuit, Zulu, Bantu, Cerchi, significano i migliori, gli uomini, i guerrieri, i più coraggiosi. Mai nessuno si è chiamato il più debole, lo sfigato, o qualche cosa. Cioè, ci si autribuisce sempre una certa superiorità o addirittura una certa umanità. Noi siamo gli uomini, gli altri no, o lo sono meno, in questo senso. Ecco, quindi possiamo cominciare a pensare che una comunità parte, inizia soprattutto, e continua e sopravvive, lo vedremo, sul piano simbolico. Per essere una comunità dobbiamo pensare di essere una comunità e crearci dei simboli comuni, che passano poi attraverso dei gesti quotidiani, ecco. Ma soprattutto si fonda sul riconoscimento dell'altro, come qualcuno che fa parte della tua comunità. Perché, dicevo, non si parla tanto di comunità proprio nel momento in cui cominciamo a vedercela sfuggire tra le dita? Perché col passare del tempo qualcosa è cambiato. Per esempio, sono cambiate anche le dimensioni dei nostri centri abitati. Se noi pensiamo fino a ancora un paio di secoli fa, la maggior parte delle città era visibile. Da un punto in alto potevi vederne la fine. Erano abbastanza contenuti, erano spazi in cui ci si trovavano. L'aumento, la moltiplicazione degli spazi della città industriale e anche la frammentazione degli spazi ha portato a rendere più difficili questi legami. È più difficile avere quel faccia-faccia che fa sì che ci si riconosca. Qualche anno fa mi è capitato di fare un pomeriggio intero con un amico di Venezia, passeggiando, e a un certo punto io mi stupivo da quante persone lui salutasse. Infatti ho detto, ma qui vi conoscete tutti. E lui mi ha detto una cosa interessante, dice, no, però a Venezia si va tutti a piedi e ci si vede in faccia. Io non so magari chi è, ma so che è di Venezia. E lo saluta, e lui saluta me. Ecco, non è detto che io debba conoscere tutti, ma riconoscerti. Oggi ci spostiamo sempre più in automobili e con altri mezzi, è sempre più difficile vedersi in faccia. L'estensione della popolazione degli spazi ci rende anche più difficile il riconoscersi. Allo stesso tempo anche il modello lavorativo industriale ha frammentato gli spazi e il tempo, separando lo spazio e il tempo del lavoro dallo spazio e il tempo della vita liberata dal tempo del lavoro, dalla casa, dell'abitazione, del domestico. A questo dobbiamo anche aggiungere la rapidità del movimento. C'è stato un incremento di velocità, di rapidità, di tutto. Noi siamo nell'epoca dell'accelerazione. La rapidità non è certo amica della riflessione, non è certo amica della lentezza che ci permette l'incontro o lo sviluppo dell'incontro. Il nostro cervello è ancora neolitico, non è adatto, ancora adattato. Magari fa 15.000 anni lo sarà. Per adesso accontentiamoci, siamo neolitici, quindi siamo ancora, reggiamo certi ritmi e altri non li leggiamo. E quindi lo spazio viene consumato in fretta. Molto spesso i nostri spostamenti, lo vediamo anche oggi, sono tra un punto e l'altro e in mezzo non c'è nulla. Il tra, il già e il non ancora, non c'è niente. Vado da qua a qua e in mezzo è come non ci fosse più nulla. E questa accelerazione non solo ha bruciato lo spazio. Oggi lo spazio è sempre minore. Io da Torino per venire a Bologna ci ho messo poco più di due ore. Una volta ci mettevo quattro e mezza. Quindi in qualche modo è stato bruciato lo spazio. È anche vero che a quella velocità uno non è che vede molto il paesaggio. finisce che poi lo ignora. Quindi cosa c'è in mezzo è sempre meno nulla. E anche il tempo ha subito un'accelerazione impressionante. Oggi tutte le nostre esistenze sono più veloci. C'è sempre stata un'accelerazione. Potremmo dire che forse la prima accelerazione c'è stata da quando abbiamo inventato la ruota. o da quando abbiamo iniziato ad andare a cavallo. Già si andava più in fretta che a piedi. Ma un'accelerazione così grande, così importante e soprattutto avvenuta in tempi così rapidi come quella che c'è stato negli ultimi decenni non è mai avvenuta prima nella storia. Oggi siamo bombardati da un flusso incredibile di informazioni. Continuamente riceviamo informazioni, immagini, messaggi, notizie e tutto avviene con una rapidità che prima non conoscevamo e che spesso ci mette in crisi proprio per questa ancora nostra non capacità di elaborare queste informazioni. Il nostro cervello ha bisogno anche di lasciar sedimentare le cose perché poi entrino a far parte anche di una memoria più o meno condivisa. Invece oggi appena riceviamo un'informazione subito quasi ne segue un'altra e quell'altra ecco che svanisce. Lo vediamo tutti i giorni. Faccio sempre un esempio parlando di immagini. Oggi siamo in una società in cui si producono immagini in una quantità industriale ed anche da quando poi gli smartphone hanno la possibilità di fare le foto tutti fanno immagini e le mandano a tutti. Questo delirio. Quando nel 61 venne costruito il muro di Berlino uno dei più grandi fotografi del Novecento, Enrico Artier-Bresson fece una foto che probabilmente molti di voi hanno visto diventata storica. Si vede sullo sfondo, si vedono i muratori che stanno erigendo il muro due signori da questa parte salgono su un parapetto per guardare ancora una volta al di là del muro. Loro sono fotografati di spalle e guardano ancora una volta quella strada su cui fino a pochi giorni prima potevano andare, probabilmente di là avevano amici e parenti e che poi fino all'89 sarà chiusa. Questa foto, dal momento in cui è stata scattata e dal momento in cui è stata poi pubblicata sono passati sei mesi. È arrivata sei mesi dopo su Life. Però è una foto che ci racconta anche in modo drammatico e commovente. C'è tutto in quella foto e molti quella foto se la ricordano come ci ricordiamo di altre foto il miliziano di Robert Kappa e la guerra di Spagna o altre cose. C'è stato tanto tempo tra la foto e la visualizzazione e questa foto rimane. Arriviamo al novembre dell'89 crolla il muro di Berlino ci sono 5200 fotografi accreditati chi si ricorda una foto del muro di Berlino? Della caduta? La foto che era in verba di me. Non perché i fotografi non fossero bravi Cartier-Bresson e Cartier-Bresson ma fotografi bravi ce ne sono tanti e che quelle immagini sono state tante e così veloci che ce le si hanno dimenticate tutte. Non hanno avuto il tempo di sedentarsi nella nostra memoria. Provate a fare l'esperimento di guardare l'home page di un qualunque quotidiano l'immagine centrale non dura più di due ore ma due ore è già un tempo lungo a volte ogni ora cambia. Ecco, questa è anche l'accelerazione il consumo eccessivo di informazioni ho parlato delle immagini per fare un esempio e questo che cosa causa? Causa un'estrema dilatazione del presente Noi oggi viviamo sempre di più nel presente abbiamo sempre meno coscienza del passato e ancora di meno del futuro perché? Perché questo flusso continuo di messaggi che ci arrivano fa sì che il presente si sposti ma rimanga sempre un presente il passato perché esista deve essere archiviato elaborato, archiviato e memorizzato Noi la memoria la dobbiamo costruire vi leggo due versi di Jorge Luis Borges dall'elogio dell'ombra Noi siamo la nostra memoria Noi siamo questo museo chimerico di forme incostanti questo mucchio di specchi rotti Ecco, noi siamo la memoria ecco, quando noi parliamo di costruire una comunità in fondo la costruiamo su un'idea di memoria che dobbiamo avere e purtroppo questa memoria viene in qualche modo fagocitata dal continuo cambiamento che invece questa accelerazione ci porta e questa memoria per esempio ci ha fatto dimenticare il nostro passato di emigranti 60 milioni di italiani che sono dovuti chi di noi non ha qualche parente che ha dovuto emigrare ecco, non ce lo ricordiamo quasi più e non ci ricordiamo tante altre cose che sono passate ecco, quindi c'è una invadenza un'invasione del presente e anche il futuro è più difficile c'è premesso che il futuro non lo conosce nessuno ma in qualche modo forse in qualche decennio fa almeno lo si sognava e lo si immaginava c'era una qualche aspirazione a un'idea di futuro che avrei voluto non è detto che ci riuscissi ma almeno ci provavo anche qua c'è stato un profondo mutamento nelle nostre società occidentali e ancora una volta ecco coincide in modo metaforico anche un po' col crollo del muro di Berlino non voglio certo essere nostalgico del muro è lungi da me ma in passato c'erano delle visioni venivano chiamate ideologie che hanno portato anche molti danni lo sappiamo benissimo però ideologia oggi è una parola squalificata se ti dicono ideologico è uguale a vetero o qualcosa però l'ideologia in fondo era l'idea di quale futuro di quale società io avrei voluto si realizzasse nel futuro quindi un'aspirazione a volte utopica io appartengo a una generazione che ha sognato tanto ha avuto come l'utopia quasi come compagna di banco quando eravamo giovani poi se uno non sogna da giovane è l'unica volta che può deve farlo però almeno c'era una propensione verso un futuro con il crollo del muro intendiamolo sempre come metafora come epoca crollano anche quelle cosiddette narrazioni del novecento appunto queste idee e ci pensate oggi l'unica ideologia dominante è quella di mercato non c'è più nessuno anche la politica ha il fiato corto non c'è più questa aspirazione a progettare il futuro De Gasperi diceva che il politico pensa alle prossime elezioni lo statista alle prossime generazioni ecco oggi quanti pensano alle prossime generazioni forse adesso le prossime generazioni ci stanno pensando loro ecco magari con queste manifestazioni per l'ambiente ma di sicuro noi non ci abbiamo pensato molto ecco la nostra parola ecco questa mancanza anche di futuro e questa mancanza di passato fa sì che viviamo in un continuo presente senza avere più la percezione e perché questo indebolisce i legami comunitari perché i legami comunitari hanno bisogno anche di memoria anche dico e non solo un grande storico francese di fino a 800 Ernest Renan in una conferenza divenuta poi un libro tradotto anche in italiano molto bello rimane un classico il cui titolo è significativo è che cos'è una nazione? punto interrogativo e mette in discussione molti un po' anche dei luoghi comuni lui parte essendo francese dicendo la Francia nel suo nome porta una sorta di dichiarazione etnica Francia è la terra dei franchi poi ci dice Renan 10? 12? facciamo 15 famiglie in Francia dicendo dai franchi? tutti gli altri non hanno mai avuto a che fare con i franchi cioè è già questo e ci racconta come in fondo l'idea di qualunque nazione nasce da di nuovo da un progetto di immaginazione del futuro dobbiamo immaginare e alla fine conclude con un passaggio diventato anche famoso e dice per fare una nazione ci vuole una forte dose di memoria storica che ci ricordi cosa ci unisce e un'altrettanta forte dose di oblio che ci faccia dimenticare ciò che ci ha diviso dobbiamo anche dimenticare le divisioni le guerre che si sono fatti fra francesi in suo caso ma vale per qualunque paese alle spalle abbiamo solo guerre quindi allora vedete che è un processo di legame il passato e il futuro che è sempre dovuto all'immaginazione a un processo simbolico ma questa memoria e questi simboli da soli non sempre riescono e sono sufficienti non siamo così capaci di tenere insieme tutte queste cose e allora abbiamo bisogno di qualcosa che tenga viva questa idea di comunità e che cos'è questo? sono i rituali qualunque comunità ha bisogno di rituali rituali che possono essere religiosi ma possono anche essere non religiosi rituale che cos'è? è un qualche evento che si ripete secondo un canone perché il rituale deve essere ripetitivo se no non è un rituale d'altronde lo usiamo anche nel linguaggio comune quando si dice ma sì questo è rituale si fa sempre così ora a volte si esagera ecco lavarsi i denti al mattino non è rituale è una buona abitudine ma ci sono dei rituali e non è che forse ci accomuna più di tanto ma ci sono il rituale deve essere soprattutto collettivo se no non è che cos'è in fondo un rituale? beh qui ci viene una lezione dall'antropologia in particolare da un antropologo che si chiama Victor Turner che negli anni 50 studiò nell'allora Rhodesia oggi Zambia Victor Turner studia tra gli Indembu un po' per se lo Zambia e in particolare in un momento in cui si deve celebrare il rituale per invocare la pioggia comincia a fare come fanno gli antropologi a tormentare la gente intelligente con domande stupide a chiedere a queste persone del villaggio ma davvero il rituale c'è il sacerdote che il stregone se volete chiamarlo ma sacerdote fa cadere la pioggia e questi lo guardano tutti con un'aria perplessa cioè tu sei venuto dall'Inghilterra a chiedere se noi crediamo solo tu ci puoi credere allora si pone la domanda e poi la risposta se la dà e dice attenzione perché invece nessuno crede davvero che la pioggia la fai cadere tu ma siamo in un contesto ambientale climatico dove c'è una stagione delle piogge e una stagione secca dalle piogge dipende davvero la vita o la morte se ci saranno piogge ci saranno ben raccolto e tutti staremo bene e se non viene ci sarà siccità carestia fame e morte allora qual è l'importanza del rituale esserci perché in quel momento noi stiamo vedendo ognuno di noi come qui sta vedendo di far parte di una comunità se andrà bene saremo tutti contenti se andrà male non sono solo siamo tanti ci aiuteremo qualcosa forse riusciremo a fare allora l'importanza del rituale non è tanto nell'efficacia che può avere ma nel rendere visibile la comunità perché se no è solo percepita qualunque liturgia religiosa è anche fatta per raggruppare la comunità pregare tutti assieme è contarsi vedersi abbiamo bisogno del rapporto anche faccia a faccia del vedere di far parte di un gruppo perché se no tendiamo a dimenticarcelo tendiamo a essere presi dalle nostre faccende private e questo si indebolisce ma pensate che non solo le piccole comunità di villaggio di fede ma anche le nazioni hanno bisogno dei rituali perché ogni nazione il giorno in cui celebra la sua festa deve fare una sfilata una parata con tutte le intanto anche lì visualizziamo la gerarchia del potere c'è il Presidente della Repubblica il Presidente del Senato la Camera quindi uno due tre secondo il podio delle cariche istituzionali anzi ci sarebbe anche da riflettere sul 2 giugno parlo dell'Italia perché sfila le forze armate e non i panettieri gli infermieri i medici gli insegnanti e perché forse lo Stato si vuole dare un'immagine bellica e questo forse sarebbe una cosa su cui riflettere la Repubblica è fatta anche soprattutto di gente che lavora tutti dovrebbero sfilare e questo però ci dà l'idea di che il rituale come dice Turner è un dramma sociale ma dramma nel senso teatrale è la messa in scena della comunità noi oggi invece abbiamo sempre meno rituali ecco questo è forse uno dei punti deboli abbiamo sempre meno occasioni di ritrovarci di confrontarci e di più un altro elemento che ha contribuito a diciamo a indebolire un po' i legami è stata la rivoluzione del web allora è curioso la rete il web è un'entità piuttosto giovane maggiorenne appena appena schiavando degli ultimi vent'anni neanche che c'è una diffusione così grande del web capillare tant'è vero che non ha neanche ancora elaborato un lessico proprio per esempio il termine communities che è comunità prende dalla sociologia però se ci pensate all'inizio la comunità classica della sociologia quella la prima che viene studiata è quella territoriale la rete è senza territorio la rete non ha un territorio la rete è ovunque non lo so io posso connettermi adesso con uno di Boston non c'è spazio tra di noi non c'è lo spazio se siamo connessi alla stessa ora possiamo dialogare quindi annulla lo spazio è un'entità di cielo difficile tant'è vero la pensiamo come spazio tant'è vero che usiamo il verbo navigare come se fosse un mare gli inglesi usano to surf ci mettono anche le onde loro però di fatto non c'è e il passo il cambio di passo è stato non solo l'inizio della rete all'inizio la rete era accessibile fruibile tramite un personal computer che stava a casa cioè finché ero in giro vivevo tranquillo poi si è passati allo smartphone e adesso siamo raggiungibili 24 ore su 24 questo ha cambiato radicalmente perché ha avviato questo enorme flusso di cui parlavo prima che ci raggiunge nelle nostre tasche e guardate che non è solo un problema di un cambiamento tecnologico ma è questo induce anche a un cambiamento culturale e addirittura direi emotivo quelli come me diversamente giovani si ricorderanno che il telefono una volta era avvitato al muro nero di bacchelite avvitato se uno ti telefonava non ti chiedeva dove sei eri lì alla lunghezza del cavo della cornetta più in là non potevi andare se ti telefonava e non rispondevi pensavi è uscito e vivevamo tranquilli io che ero uscito e lui che mi ha chiamato poi qualcuno ha cominciato a complicarsi la vita con le segreterie telefoniche e già lì ci si sente in colpa adesso ecco se uno non risponde per due ore l'altro già si è in ansia oppure intanto la prima domanda dove sei e uno mente spudoratamente perché tanto non ma soprattutto infatti uno va al cinema chiude adesso io ho staccato un'altra due ore poi arriva la lista di chiamate perse e uno si sente anche in colpa di non essere più connesso ecco quindi questa idea ha cambiato anche ha creato ansia io dico a volte gli studenti siccome mi scrivono per email io non ce l'ho sullo smartphone mi scrivo un email dopo un'ora mi dico le ho mandato un email dopo due ore le ho mandato due email tanto fino a che non rispondo mandale finché vuoi io rispondo però capisco perché loro sono abituati in quel modo lì ecco questo però adesso non voglio assolutamente demonizzare la rete che è uno strumento formidabile però che cosa ha creato? ha creato una diversa tipologia dei rapporti io mi piace citare un libro a chi interessa questo argomento bellissimo uscito due anni fa in italiano di Sherry Tarkle che è una sociologa statunitense lei è una che da anni studia lei è una sociologa antropologa che studia all'MIT al Massachusetts Institute of Technology quindi curioso come e studia proprio la parte culturale l'approccio alle tecnologie digitali questo libro è una ricerca condotta tra i giovani dei college americani sull'uso dei digital device ed è interessante perché la maggior parte delle risposte di questi giovani sul perluso di questi è che si preferisce la comunicazione tramite whatsapp tramite cose che non faccia a faccia perché richiede meno responsabilità e questo è veramente una cosa su cui occorre a riflettere è vero la conversazione richiede responsabilità perché se io mi confronto con qualcuno magari discuto anche animalamente a idee diverse beh mi devo prendere responsabilità delle mie idee magari anche cambiarle o cercare di far cambiarle sue insomma prima di arrivare a picchiarci forse possiamo discutere lo stesso vale per una parola anche qua mutuata dall'offline e portata nell'online come l'amicizia l'amicizia è una cosa faticosa è bella ma anche faticosa perché devi anche farti carico degli amici quando hanno un problema tenerla viva poi è bello quando tu hai un problema avere degli amici è bello però non è una cosa così semplice è un lavoro ecco l'amicizia e il problema è che tutti noi un po' siamo stati indotti da questa nuova tecnologia a da un lato a non essere più disponibili a concedere tempi e spazi alla conversazione degli altri deve essere sempre più rapida sempre più veloce e questo ci porta ad avere sempre meno tempo per l'introspezione per pensare a chi siamo e questo ecco crea delle difficoltà proprio nella comunicazione proprio Sherry Tarko scrive siamo troppo indaffarati per dedicare ai nostri amici più tempo di quanto ce ne vuole a mandare un messaggio siamo troppo indaffarati a mandare messaggi cioè sembra quasi un gatto che si morde la coda ecco e soprattutto perché la conversazione faccia a faccia richiede troppe variabili ci voglio ci sono troppe variabili che sono invece annullabili però che cos'è che viene meno nella conversazione online l'empatia la conversazione un dialogo non è fatto solo di scambio di parole ma è anche di corporeità noi abbiamo bisogno anche di un linguaggio gli italiani più di altri metà di quello che diciamo lo diciamo facendo gesti a me se legano le mani non vi dico più una parola ve lo dico subito ecco i nordici forse sono favoriti perché usano meno il corpo ma noi siamo molto teatrali nel nostro esprimerci ma anche i francesi fanno tante smorafie con la faccia quando parlano c'è c'è sempre un accompagnamento comunque io se dico un amico non so se un imbecille se glielo dico ridendo capisce che è uno scherzo se glielo dico serio forse dice allora mi sta insultando cioè percepiamo il modo di dire il tono o anche uno che magari non vuol dirtelo ma c'ha qualcosa che questo si perde gli addetti alla rete hanno subito inventato l'emoticon però l'emozione non è l'emotico l'emozione è qualcos'altro intanto l'emotico semmai è una sintesi di un'emozione precodificata ma la smorfia che uno si può inventare in una conversazione non esiste quindi il pretente dal faccia a faccia si è passato lo schermo a schermo in qualche modo dalla comunità al community dal sociale al social e il verbo che oggi domina è bello condividere facciamo passare l'ambulanza dal pompiere dicevo un altro 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 ah questo è qualcosa dicevo ecco il verbo che oggi domina la rete è condividere però attenzione condividere è una parola bellissima ma quella condivisione non è sempre un convivere condividere ha un senso se si convive vivere convivere assieme condividere e qui dobbiamo fare attenzione a quello che ci sta accadendo oggi perché fino adesso abbiamo parlato della comunità come qualcosa di positivo dei legami caldi ma l'eccesso di legami porta alla chiusura e noi siamo in un'epoca in cui a causa di tanti elementi sociali pensiamo alla fine del cosiddetto stato sociale o al declino del cosiddetto stato sociale no manca l'aviazione poi sono passati poi dicevo ecco mi ricordo già più cosa stavo dicendo è lo stato sociale grazie l'età lo stato sociale quel welfare a cui ci eravamo un po' abituati nel dopoguerra le strutture si stanno indebolendo ovunque in occidente viene meno quel supporto che ci dava anche una certa sicurezza ci si sentiva un po' tutelati no quella che Zygmunt ha chiamato la liquidità della società cioè il venire meno di quei punti di riferimento fa sì che il cittadino si senta sempre più solo sempre più isolato si è sempre meno parte di qualcosa lo vediamo per esempio anche nel rapido mutamento dei voti nelle elezioni un elettorato estremamente fluido che cambia continuamente il 7% degli italiani vota nello spazio che c'è tra la casa il seggio questo lo dice ilvo diamanti e quindi e questo perché vengono a mancare ecco delle certezze dei punti di riferimento solidi questa solitudine porta allora a che cosa a immaginare di rafforzare i legami interni attenzione oggi il nuovo razzismo si chiama identitarismo l'identità è la nuova forma della nuova declinazione del razzismo perché l'eccesso di comunità porta all'esclusione dell'altro la comunità ha senso se è aperta all'altro il che non vuol dire perdere anche le proprie caratteristiche ma vuol dire saper anche accogliere l'altro il diverso rimane diverso sì e con questo posso benissimo convivere entro certi limiti e invece oggi c'era con noi oggi stiamo indebolendo paradossalmente retoricamente si parla sempre più di identità di radici di attento in realtà stiamo indebolendo i nostri legami e stiamo anche indebolendo la nostra memoria perché per quello che ci ho prima pensate al fatto di certe dichiarazioni di stampo razzista xenofobo che forse vent'anni fa non le avremmo accettate ci saremmo indignati non ci saremmo permessi di accettare certe cose oggi passano e se passano è perché non ci sono più o si stanno indebolendo gli anticorpi della vera comunità e guardate che quando una dichiarazione anche forte è passata poi la metabolizziamo la volta dopo si può dire di peggio perché la sticella della sopportazione come il veleno è stata alzata si può andare oltre ecco la paura forse che oggi dobbiamo tutti avere questo che da un lato si vuole chiudere l'identità dentro a un'entità naturale le radici come se i diritti vengano solo dal fatto di essere nati in un posto e non invece in un altro è come se invece la comunità non fosse un continuo processo di elaborazione Renan dice alla fine la nazione è un plebiscito quotidiano e vale per qualunque comunità funziona finché ci crediamo ma crederci vuol dire davvero riconoscersi in sé ma aprirsi all'altro andiamo verso la fine a me piace sempre citare una metafora usata da Ludwig Wittgenstein il famoso filosofo austriaco il quale in uno dei suoi pensieri stampalati si fa una domanda un recinto aperto è un recinto Wittgenstein è un logico si dà anche la risposta e dice sì perché per gran parte assolve la funzione di recingere ecco le culture le comunità qualunque se siano sono dei recinti aperti tutti noi cresciamo in una comunità in cui impariamo a parlare a comportarci certe usanze a mangiare c'è tutta una serie di cose però in quel recinto può entrare gente che viene da altri recinti noi possiamo uscire andare a visitare altri recinti tornare a casa tutta la storia dell'umanità è fatta così non siamo mai stati fermi tutti siamo debitori e creditori di altre comunità qualcuno forse l'ha visto recentemente hanno fatto un sondaggio provocatorio chiedendo a molta gente preferite usare i nostri numeri o quelli arabi nessuno vuole usare quelli arabi ecco per dire che a volte non abbiamo neanche coscienza di quanto dobbiamo agli straniere la parola algoritmo quanto mai dimora oggi è debitrice di alcurismi matematico persiano del 1400 quindi siamo tutti mescolati e multiculturali il problema è che quando invece del confine diventa muro ecco allora qui la comunità finisce per diventare assettica sterile e dissolversi estinguersi non ha più il vero valore della comunità purtroppo noi stiamo vivendo in un'epoca di muri vi faccio un'idea ritorno al muro di Berlino per ogni chilometro di muro di Berlino abbattuto sono stati costruiti 142 chilometri di muri dopo il crollo del muro di Berlino questo ci dà l'idea che cosa siamo allora torno all'immagine di quel ponte di Mostar quel ponte è stato abbattuto dall'artiglieria serba nel 91 non perché fosse strategico era un ponte dove si passa piedi non dava fastidio a nessuno è stato abbattuto perché era un simbolo perché si voleva abbattere la volontà di stare assieme di quelle comunità che per secoli aveva retto per questo è stato bombardato non certo perché strategicamente fosse fosse importante e allora proprio in un'epoca di muri mi piace ricordare le parole che scrisse Alexander Langer qualcuno di voi se lo ricorderà fu alto tesino anche deputato scomparso prematuramente proprio durante la guerra dell'ex Jugoslavi un bellissimo saggio che si intitola l'Europa o inizia Sarajevo o non sarà e forse aveva ragione e Alexander Langer a certo punto dice bene dobbiamo costruire ponti non muri noi usciamo a costruire ponti facciamoci contrabbandieri è bellissima questa immagine ma lui dice contrabbandieri di coscienza ecco le parole di Alexander Langer oggi sono quanto mai attuali e io adesso chiamerei Giulia dove è Giulia? ecco che Giulia arriva perché volevo salutarvi con una breve filastrocca siccome io non so leggere ho chiesto a Giulia di recitarla prego grazie c'era una volta un piccolo paese di cui scusate non ricordo il nome c'erano le case le strade le botteghe quel che mancava erano le persone piano piano erano andati via tutti chi per vie nuove chi per la strada nota sembrava un nido senza passerotti sembrava proprio una conchiglia vuota un giorno vennero qui da tutto il mondo per vedere cosa ci aveva regalato il mare due statue grandi due corpi da guerrieri c'erano tutti ad applaudire e a festeggiare quando quel mare poi ci regalò persone che non erano statue e non erano eroi nessuno venne a spendere il suo nome su quella spiaggia eravamo solo noi si diede pane e dignità a quella gente è casa vostra è qui il vostro arrivo e poco a poco tra le molte indifferenze quel paesino tornò a essere vivo finestre aperte viuzze e sorridenti la terra sembrava essere rinata era un paese dai colori differenti erano giorni di luce colorata un giorno poi per l'invidia di certa gente si svuotò la piazza la scuola i banchi non tutti amavano quelle differenze volevano stare solamente tra i bianchi ma sono sicura in qualche angolo di mondo i bimbi giocheranno ancora in qualche piazza forse faranno un grande giro tondo senza sapere cosa vuol dire razza c'era una volta un piccolo paese non mi ricordo il nome mi dispiace ce l'ho qui sulla punta della lingua ricordo però che faceva rima con pace grazie grazie a tutti bene ringraziamo per questo averci illuminato quello che è il discorso della rete della comunità e del sociale dicevamo che senza punti ci dicevano che senza punti di riferimento senza una rete sociale solida non si hanno punti di riferimento e ci si va disperdendo eppure sembra proprio che il sociale quando diventa social ci aiuta in questa dispersione allora adesso abbiamo ancora qualche minuto se grazie a tutti Grazie a tutti